Buonasera, benvenuti a tutti in nome del Centro Studi Donati. Prima di lasciare la parola alle nostre relatrici, Eva Rizzine e Cristina Simonelli, vorrei rivolgere un ringraziamento particolare da parte della nostra associazione alla Facoltà di Scienze della Formazione per l'aiuto e per la collaborazione. Se volete avere alcune informazioni sul progetto del Centro Studi Donati che si chiama Officine Care, ci troverete alla fine dell'incontro oppure potete anche inviarci un'email all'indirizzo che leggete sulla lavagna. Vi ringrazio innanzitutto per essere qui stasera così numerosi. Incuborom, pregiudizi, sicurezza, fobie, interculturalità. Grazie, buona serata. Buonasera, ci hanno detto che è meglio che ci presentiamo direttamente, è vero, così come dire, forse risparmiamo un attimo. Ci introduciamo subito nella questione. Allora, delle due, io sono Cristina, Cristina Simonelli e considero il mio saluto iniziale. Mi piace considerarlo una specie di prefazione all'incontro vero e proprio che sarà tenuto dalla dottoressa ai varizzini. Perché è una prefazione, perché gentilmente, diciamo con una gentile insistenza, gli amici del Centro Donati hanno chiesto comunque che venissimo tutte e due. Io penso perché siamo in una condizione diversa, di lei parlerà la dottoressa stessa, ma siamo in una condizione un po' diversa rispetto alla questione Rom. Io, per quello che mi riguarda, ho avuto la sorte, l'avventura, la fortuna, tante cose, mettete tutte le parole che volete, di poter vivere da molto tempo ormai, io sono italiana non Rom, diciamo così, da molto tempo ormai, dagli anni 70, in contesto Rom. E vivo in un contesto Rom da allora, in una realtà comunitaria che è legata comunque a una prospettiva di una comunità cristiana, cattolica in particolare. E dunque per me affrontare questo tema è parlare della storia di un'amicizia. Come storia di un'amicizia sono evidentemente profondamente coinvolta nella questione e ritengo che specialmente, forse sempre, ma oggi come oggi, sia urgente anche parlare, perché c'è un tratto di emergenza che non è quella emergenza Rom di cui sempre si legge, ma è l'emergenza xenofobia e l'emergenza di un pensiero tribale che identifica azioni con il gruppo e gruppo con ogni singola azione, ma ci sarà modo di sentire meglio. Legato anche a una prospettiva preoccupante, mi pare, di perdita di prospettive tra problemi micro e macro. Mi riferisco all'ossessione per la micro criminalità, l'ossessione, sono toscana, ma vengo da Verona, vivo a Verona, per tirare, smantellare i giacigli, è il sindaco che si vanta di aver smantellato 20 giacigli di persone che dormivano per strada, l'ossessione è appunto, sono a Fiorentina di origine a Firenze per i lavavetri, cioè una perdita di proporzioni tra fenomeni micro e macro che è impressionante. Allora da questo punto di vista ritengo che la questione sia veramente emergenza, un'emergenza culturale, un'emergenza politica che chiede di affrontare direttamente il tema. E tuttavia questa necessità di prendere la parola e di non lasciare dei silenzi colpevoli da questo punto di vista, per me è sempre frenata dal fatto che non volentieri si parla degli amici, cioè c'è un pudore dell'amicizia che resiste alla curiosità, alle domande, a voler sapere e che molte volte mi ha frenato in questo. E questo atteggiamento è superato oggi dalla presenza della dottoressa Rizzin e mi piace dirlo con le parole che prendo a prestito da Asia Jebar, che è una scrittrice algerina che molti di voi conosceranno. Lei dice da anni, avverto come parlare su questo terreno, stava dicendo, le chiedono delle donne arabe, vogliono che siamo a nuove prefiche, che ci lamentiamo, eccetera, come parlare su questo terreno divenga, esclusi portavoce o specialisti, in un modo o nell'altro una trasgressione. Dunque, non ho la pretesa di parlare per conto di, o peggio, di parlare di, ma l'impegno a parlare vicino a e se necessario contro di. Questo è il primo dei gesti di solidarietà che devono compiere le donne arabe e per sempre. Dunque, poiché io condivido profondamente questo atteggiamento, non amo parlare al posto di, ma eventualmente vicino a e contro, nel caso, come ho detto, contro la xenofobia, contro questa montata di razzismo che si dice a volte che sono solo parole, ma le parole poi portano degli effetti che non sono soltanto solo parole. Proprio perché condivido questa posizione è con piacere, anche con un certo orgoglio che considero queste mie parole una prefazione a quello che dirà la dottoressa Eva Lezzin, che ha dal punto di vista professionale e personale, vi dirà lei come, molto più titolo di me a parlare in questa prospettiva. Aggiungo soltanto un'ultima questione, un'ultima diciamo dimensione, è che se dovessi dire forse sinteticamente anche un esito di questi anni, che poi non sono separabili dalla mia vita, insomma di questa possibilità, direi che comunque è una via di pace, cioè il fatto al di là del chi e del come, del poter vivere insieme nella diversità, al di là anche di quel singolo contesto, diventa mi sembra una possibilità di un mondo diverso possibile nel frammento forse, ma penso eloquente e forse anche carica di una possibilità di speranza che si può avvenire. E con piacere lascio parole, dottoressa Eva Lezzin. Grazie a te Cristina per le splendide parole. Buonasera a tutti, volevo ringraziare enormemente il Centro Studi Donati e la Facoltà di Scienze e Formazione per avermi concesso oggi la possibilità di essere qui a questo incontro. Sono Eva Lezzin, appartengo alla comunità dei sinti, comunità dei sinti italiani, in particolare la comunità alla quale appartengo sono i Gacchane Pertavagaria o definiti anche sinti treici, che cosa significherà questa parola impronunciabile? Nella nostra lingua, la lingua parlata dai romi sinti, romanes, la parola Gacchane Pertavagaria sta a identificare proprio il gruppo ai fogli appartengo, chiamati anche sinti tedeschi. Sono sinti presenti in Italia da inizio del Novecento, giunci in Italia a seguito di diverse ondate migratorie, la più consistente è quella avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale a seguito della diffusione del nazionale socialismo e dei suoi fuori progetti di dominazione raziale. Appartengo alla comunità dei sinti, mi sono laureata alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Trieste con una tesi di laurea dedicata alla cultura della mia comunità, perché ho pensato che forse il primo strumento necessario per abbattere il pregiudizio e la discriminazione poteva essere proprio lo strumento della conoscenza. Allora ho pensato bene di scrivere una tesi di laurea sulla mia comunità per permettere un po' alla società di conoscerci. Successivamente ho continuato i miei studi che mi hanno portato ad un dottorato di ricerca, sempre all'Università di Trieste, l'ho concluso da pochissimo l'anno scorso, un dottorato in Geopolitica e Geostrategia interamente dedicato alla tematica dei diritti umani, perché poi mi sono resa conto che la conoscenza non era l'unico strumento. Mi sono resa conto che la discriminazione raziale, la xenofobia, come ricordava prima Cristina, è una realtà che esiste e che bisognava studiarla. Ho fatto una ricerca interamente dedicata al fenomeno dell'antiziganismo esistente in Europa e in particolare ho focalizzato la mia ricerca sulle azioni condotte dalle istituzioni europee per la tutela delle minoranze usinte. In tutto questo poi ho fondato insieme ad altre persone nel 2005, una organizzazione non governativa che si chiama Osservazione, che è un centro di ricerca azione contro la discriminazione dei romi e sinti. È un'associazione che è impegnata proprio nella lotta alla discriminazione raziale e ha come obiettivo quello proprio di produrre dei rapporti tesi a mostrare con dei dati e delle ricerche la discriminazione esistente, perché molte volte, anche se la discriminazione esiste, è difficile anche dimostrarla ed è importante produrre questi rapporti affinché anche le istituzioni europee conoscano qual è il livello di razzismo che esiste oggi in Italia nei confronti delle minoranze romi e sinti. Oltre a far parte di osservazione faccio parte anche del neocomitato romi e sinti insieme. Il comitato romi e sinti insieme è un comitato che si è costituito a marzo del 2007, è un comitato che oggi conta circa 19 associazioni rappresentative di romi e sinti ed è un comitato che ha voluto dare una sorta di svolta perché ha posto i romi e sinti come protagonisti e come soggetti attivi e pensanti, perché purtroppo in Italia per troppi anni, a differenza di altri paesi europei, sono esistiti tantissime associazioni e troppi progetti che hanno più puntato all'assistenzialismo e non sono stati in grado di far emergere i romi e sinti come soggetti attivi all'interno della società. All'interno del comitato ci sono diverse personalità, romi e sinti italiani, romi e sinti provenienti da paesi comunitari e non comunitari. L'obiettivo proprio del comitato è quello di dialogare con le istituzioni affinché si possano adottare degli strumenti per risolvere la complessa situazione dei romi e sinti oggi in Italia. Il nostro primo slogan è proprio quella della partecipazione, nel senso che riteniamo che un futuro costruttivo per noi romi e sinti sarà improponibile se non si rendono i romi e sinti soggetti attivi e partecipi delle politiche che riguardano la loro esistenza. Siamo riusciti a tenere un traguardo, abbiamo iniziato a dialogare con le istituzioni, a fine gennaio c'è stata una conferenza europea sulle questioni romi e sinti indetta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociali e abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questi due giorni di incontro e per noi è stato il nostro primo traguardo. Inizierei con la relazione dicendo anche quello che è un altro aspetto molto importante per il comitato romi e sinti, ossia la terminologia che dovrebbe essere utilizzata per definire romi e sinti. Spesso in Italia si utilizza il termine zingari o nomadi per parlare dei romi e sinti, l'utilizzo però di questi termini è da considerarsi proprio perché il termine zingaro è un eteronimo che viene dato dalla società a un gruppo di persone che di gran lunga preferisce autodefinirsi con i propri nomi. Se io sono sinta mi definisco sinta, un rom si definirà rom. Per noi il termine zingaro ha una valenza negativa perché vediamo in questo termine racchiuso il pregiudizio e l'esclusione, così come è da evitare il termine nomadi. Spesso le istituzioni utilizzano questo termine, nomadi utilizzano il termine nomadismo, non considerando però che la maggior parte delle persone dei romi e sinti che oggi sono presenti in Italia sono sempre stati sedentari e dunque è necessario partire proprio da questo concetto, ossia che la maggior parte dei romi e sinti sono sedentari. C'è sicuramente anche una piccola parte di sinti che ha praticato il nomadismo ma questo comunque è stato un'attività legata ai mestieri che esercitavano e che ancora oggi esercitano, che possono essere legati all'attività delle giostre o dei Luna Park. Oggi dunque sarebbe importante partire da quelli che sono la composizione di queste minoranze perché spesso quando si parla di rom si tende a considerarli come un gruppo omogeneo che ha spesso identificato con delle caratteristiche che sono o estremamente romantiche o dall'altra parte estremamente negative. In realtà non si tratta di un gruppo omogeneo, si tratta di una pluralità di minoranze, ognuna con caratteristiche culturali ben distinte. In generale possiamo dire che nell'Europa dell'est la maggior parte delle persone si autodefinisce col termine rom, che è singolare, che significa uomo e plurale, a seconda dei dialetti, può essere definito e possono autodefinirsi Roma o romano. Nell'Europa occidentale invece ci sono sicuramente gruppi che si autodefiniscono con il termine rom ma la maggior parte si definiscono sinti. I sinti sono presenti nell'Italia settentrionale, centrale, sono presenti in Germania, in Austria, in Belgio, in Francia meridionale. In Francia abbiamo anche sinti che si autodefiniscono in altri modi e sono i manus, mentre in Gran Bretagna, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti troveremo il romanicele. In Spagna, in Galles, in Finlandia avremo i Calais. Quindi questo per rendervi l'idea di quanto sia diversificato questo mondo rom. La particolarità di tutte queste comunità è di parlare o comunque è attestato che parlassero fino all'Ottocento una lingua che è il Romanes, che è la lingua parlata dai Rome e i Sinti, che è strettamente imparentata con il sanscrito e tutte le lingue neo-indiane che si parlano oggi nel nord-oest dell'India. Per quanto riguarda invece l'Italia, in Italia abbiamo presenti i Rom e i Sinti. Anche qui spesso si fa l'equazione Rom uguale straniero. In Italia c'è un'eterogenità anche in questo senso, perché ci sono Rome e Sinti di antico insediamento, presenti in Italia dal XIV secolo, dunque da un'epoca assai remota e non di meno però nelle considerazioni delle istituzioni, dell'opinione pubblica, spesso i Rome e Sinti sono percepiti come completamente strani nella società del nostro paese. Poi ci sono Rom provenienti dai paesi comunitari e Rom provenienti anche dai paesi extra e UE. Ci sono persone che vivono in condizioni di marginalità e ci sono anche persone che non vivono in condizioni di marginalità. Ci sono Rome e Sinti che sono soggetti attivi all'interno della società che spesso però nascondono la propria identità proprio a causa delle mancanze da parte dello Stato nella tutela della nostra minoranza. Quello più certo è che oggi i Rom e i Sinti costituiscono la minoranza più numerosa d'Europa. Una recente risoluzione del Parlamento europeo, adottata proprio da poco, il 31 gennaio 2008, una risoluzione sulla necessità di adottare una strategia europea per le questioni Rom, parla di 10 milioni di Rom all'interno dell'Unione europea e 12-15 milioni di Rom in tutta Europa. Si tratta quindi della minoranza in assoluto più grande. Oggi il paese che vanta più Rom all'interno dell'Unione europea è sicuramente la Romania. Le ultime stime del 2005 date dal Consiglio d'Europa parlano di 1.850.000 Rom presenti in Romania. Anche in Italia non esistono dei dati ufficiali, esistono delle stime e pare che la cifra si aggiri intorno alle 150.000 persone. In generale, sempre riferendomi alle stime date del Consiglio d'Europa, l'Italia si pone solo al 14esimo posto rispetto agli altri paesi per la presenza di Roma e Sinti. Io penso che è difficile comprendere il livello di ostilità, di discriminazione, di marginalità nella quale si trovano coinvolte numerosi Roma e Sinti oggi in Italia, se non si comprende quello che è avvenuto nella storia dei Roma e Sinti. Oggi quello che è certo è che esista un fenomeno, che è il fenomeno di una discriminazione naziale specifica nei confronti dei Roma e Sinti, che possiamo chiamare come fenomeno dell'antiziganismo. È un fenomeno che esiste, che è estremamente radicato nella società, che spesso viene fortemente sfruttato da alcuni partiti politici, che sfruttano la xenofobia nei confronti dei Roma e Sinti, ma non solo, in generale anche degli immigrati, per capire consenso elettorale. È un fenomeno che spesso viene alimentato dai mass media, è un fenomeno come dicevo prima, altamente radicato nella storia. È un fenomeno che si sta ponendo nella società in maniera sempre più preoccupante. La discriminazione dei Roma e Sinti ha una discriminazione particolare. Innanzitutto perché viene considerata discriminare i Roma e Sinti oggi è considerata quasi una questione di normalità. È una discriminazione condivisa, accettata e totale. È difficile descrivere la discriminazione dei Roma e Sinti perché è avvertita in diversi settori della vita, che possono andare dal settore dell'alloggio, la sanità, l'istruzione, il lavoro. Però non si può comprendere quello che succede oggi se non si comprende quello che è accaduto nei secoli giorni più bui della nostra storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale furono sterminati più di 500.000 Roma e Sinti, vittime del nazionalsocialismo e dei suoi foli progetti di dominazione razziale. I Roma e i Sinti furono perseguitati per motivi razziali. Una discriminazione che è continuata fino ai giorni nostri. In agli anni Sessanta le donne Roma in Norvegia e in Svezia venivano sterilizzate. Questa sterilizzazione è proseguita fino agli anni 90 nella Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca. Oggi la condizione delle donne Roma è altamente drammatica perché si trovano, sono doppiamente discriminate, non solo per appartenenza etnica ma anche per questioni di genere. È una discriminazione davvero che si è arrivati all'adozione nel 2006 di una risoluzione da parte del Parlamento Europeo, una risoluzione proprio sulla situazione delle donne Roma oggi in Europa, che chiede proprio di porre fine a questa segregazione delle donne nelle parti di maternità e negli ospedali e porre fine a questa questione della sterilizzazione forzata. Talvolta bisognerebbe riflettere anche sulla condizione per esempio dei Roma rumeni, capire qual è stata la storia dei Roma rumeni. I Roma rumeni sono stati sottoposti a schiavitù fino alla metà del XIX secolo, venivano acquistati e venduti come degli oggetti. Non si può capire la loro situazione perché questa situazione di schiavitù non gli ha permesso di avere pari opportunità rispetto agli altri appartenenti alla società non Roma. Quindi penso che sia importante fare una riflessione su quella che è stata la nostra storia. L'Italia purtroppo non si sottrae all'atteggiamento discriminatorio. A mio avviso io penso che il primo emblema della segregazione raziale per eccellenza nei confronti dei Roma e Sinti in Italia è rappresentato dall'esistenza dei campi nomadi. I campi nomadi esistono in Italia negli anni Ottanta, sono stati creati perché si è partiti dal presupposto del concetto del nomadismo che è uno dei più grandi stereotipi che circonda nei Roma e Sinti. 11 sono state le leggi regionali adottate per per la tutela di questa identità nomade. Furono creati questi campi nomadi che dovevano avere un carattere provvisorio e poi invece si sono dimostrati dei campi definitivi. I campi che non sono una risposta perché il campo in sé è una politica sociale della separazione e una separazione direi anche un'esclusione. È difficile poter parlare di possibilità di riscatto morale per i Roma e Sinti che vivono in quel contesto perché naturalmente non c'è possibilità neanche di interazione sociale rispetto alle persone che vivono in questi contesti dei campi nomadi ed è difficile poter creare anche un dialogo con il resto della società. In Italia il 2007 è stato un anno particolare per i Roma e Sinti. Il 2007 è stato definito dall'Unione Europea come l'anno delle pari opportunità. Doveva essere l'anno in cui si doveva promuovere la percezione della diversità come una fonte di vitalità socio-economica, ma in realtà più che l'anno delle pari opportunità e l'anno della piena partecipazione dei gruppi poco rappresentati come Roma e Sinti è stato un anno direi alquanto tragico. È stato l'anno dove sono morti numerosi bambini rom, l'anno in cui ci sono stati, è stato l'anno dello stilicidio direi delle azioni razziste nei confronti dei campi rom, l'anno delle ronde, l'anno degli sgomberi senza alternative. L'anno in cui anche si è si è fatto una sorta di strumentalizzazione politica della questione rom, si è tanto decantata la questione della sicurezza. La sicurezza sicuramente è un diritto fondamentale, un diritto che deve essere sicuramente legato ad una cultura della legalità e di conseguenza ad una certezza della pena. Però quello che si è assistito l'anno scorso è stata una criminalizzazione di massa, perché a seguito del reato commesso da un individuo si è scatenato una sorta di generalizzazione che ha fatto sì che il responsabile non era più l'individuo ma era l'intero gruppo etnico. Questo è inammissibile in uno Stato democratico come il nostro, in uno Stato dove la responsabilità penale e civile dovrebbe essere una questione individuale e non collettiva ma siccome la discriminazione nei confronti dei rom e sinti è una discriminazione collettiva l'individuo viene colpito in quanto appartenente a un determinato gruppo etnico. Una discriminazione che rende difficile anche dichiarare la propria identità, perché oggi dichiararsi rom e sinti è difficile perché viene automaticamente connesso con aspetti esclusivamente negativi, perché oggi parlare di rom significa parlare di criminali, parlare di ladri e ci si sofferma poco su quella che è la cultura dei rom e sinti, di quella che è la realtà dei rom e sinti. E' l'anno anche in cui si è detto che i rom e sinti sono difficilmente integrabili, questi discorsi sono stati pronunciati anche da numerosi esponenti politici, hanno detto che l'integrazione per i rom e sinti è impossibile. Poi a seguito degli avvenimenti fatti di cronaca e l'intervento anche da alcuni esponenti dell'Unione Europea come Barroso nel novembre 2007 ha dimostrato che esistono sia strumenti finanziari che strumenti normativi. Esiste un fondo sociale europeo che mette a disposizione proprio dei programmi specifici per determinare l'integrazione dei rom e sinti, sono stati messi a disposizione diceva Barroso 275 milioni di euro per determinare l'integrazione, fondi che sono stati richiesti da numerosi paesi, l'Italia però pare che non abbia assolutamente fatto richiesta di questi fondi. Esistono anche degli strumenti normativi messi a disposizione, esistono una richiesta di questi un'importante direttiva che la 2043 che dovrebbe prevedere la parità di trattamento delle persone, una direttiva che non è ampiamente applicata in Italia. Esistono anche non solo strumenti finanziari normativi. L'Unione Europea e non solo, anche altri organismi internazionali come il Consiglio d'Europa mette anche a disposizione delle campagne di sensibilizzazione, perché da volta io penso che il problema sia anche un problema di tipo culturale, perché anche se c'è una volontà politica di mettere in atto delle politiche per determinare l'integrazione dei rome sinti, poi ci rendiamo conto che c'è un problema culturale a livello di società e che è legato a un problema di non conoscenza. E dunque serve importare spesso, perché si ha paura? Si ha paura spesso di quello che non si conosce. E come si fa ad abbattere la paura? Attraverso la conoscenza, perché se non si conosce è logico che si viene più facilmente seduti dagli stereotipi e dai pregiudizi. Le campagne di sensibilizzazione esiste, basterebbe guardare un attimino a quello che viene già applicato in altri paesi e cercare anche di applicare in Italia. Per esempio, il Consiglio d'Europa ha messo a disposizione in diversi paesi dell'Est una campagna di sensibilizzazione che si chiama DOSTA, che in lingua romane significa basta. Significa basta i pregiudizi e iniziamo la conoscenza. È una campagna di sensibilizzazione in tipo mediatico che dà la parola ai rome sinti. Sono i rome sinti che parlano di se stessi e che si fanno conoscere l'opinione pubblica. È una campagna di sensibilizzazione che ha avuto un notevole successo e che a mio avviso potrebbe essere anche applicata in Italia, perché i mass media è il settore nel quale più bisognerebbe agire, perché spesso i mass media sono i veicoli dell'informazione e possono allo stesso tempo o incrementare il pregiudizio o anche favorire la conoscenza della realtà esistente. L'Italia è stata criticata tantissimo da numerose organizzazioni internazionali, è stata sottoposta a numerosi reclami, in particolare per la condizione dei rome sinti, in quanto non rispetta numerose convenzioni non solo internazionali, ma anche numerose normative europee. In particolare nel 21 dicembre 2005 l'Italia è stata condannata formalmente dal Comitato europeo per i diritti sociali proprio per la politica dei campi nomadi, in quanto viola con queste politiche dei campi nomadi l'articolo 31 della Carta sociale europea proprio relativa al diritto all'abitare. Ma non solo, è una discriminazione che in Italia si rifà anche all'aspetto istituzionale, in particolare la questione del riconoscimento della minoranza etnico-linguistica. Nel 1999 è stata adottata un'importante legge, una legge 482 sul riconoscimento delle minoranze storico-linguistiche. Sono state riconosciute ben 12 minoranze etnico-linguistiche, inizialmente nel dibattito per l'approvazione di tale legge erano inseriti anche i rome sinti, ma l'approvazione era fine avvenuta dopo l'esclusione di questi ultimi. In realtà la scusa che venne utilizzata è che il riconoscimento per i rome sinti non poteva essere concesso perché i rome sinti, a differenza delle altre minoranze, non erano presenti in un territorio specifico dell'Italia e dunque non possedendo questo requisito della territorialità a loro non poteva essere concesso questo riconoscimento. In realtà i fatti sono andati in maniera molto molto diversa, c'è stato notevole dibattito politico, ci sono stati alcuni partiti politici che hanno proprio sottolineato il fatto che la legge poteva essere adottata solamente dopo aver escluso di fatto i rome sinti. Allora nel 1999 il governo disse che per i rome sinti si poteva adottare una legge ad hoc, in realtà da 1999 al 2008 ancora oggi non c'è una normativa specifica nei confronti dei rome sinti. Il comitato rome sinti insieme si base molto per questo aspetto del riconoscimento della minoranza rome sinti anche perché l'Italia viene richiamata da più organismi internazionali ed europei e invita il nostro governo proprio al riconoscimento della minoranza. Anche perché l'Italia ha sottoscritto anche delle importanti carte europee che prevedono anche il riconoscimento per queste lingue sprovviste del territorio come il Romanes. Noi riteniamo che il riconoscimento sarebbe un primo passo molto importante per i rome sinti perché conferirebbe una dignità a una minoranza che esiste in Italia da secoli e che merita rispetto alla pari delle altre minoranze esistenti in Italia. Però siamo anche consapevoli che il riconoscimento non può essere considerato come la risoluzione di tutte le problematiche perché le problematiche che oggi si respinano nei confronti dei rome sinti sono problematiche connesse proprio alla violazione dei diritti umani che vanno a violazione dei diritti umani in vari settori, che sono quelli dell'alloggio, della sanità, dell'istruzione, della scuola e del lavoro. Quindi quello che è necessario è proprio adottare una strategia globale nazionale affinché le normative in questi diversi settori possano essere applicate. noi riteniamo poi che ci debba essere un altro requisito importante che è quella della partecipazione. Purtroppo in Italia, come dicevo all'inizio, sono esistite per troppo anni delle associazioni che non hanno dato mai spazio ai rome sinti di emergere, non hanno dato mai la possibilità ai rome sinti di partecipare alle politiche che riguardavano la loro esistenza. in Italia c'è un livello di arretratezza notevole rispetto ad altri paesi europei. In altri paesi europei ormai da anni hanno messo in atto degli strumenti che li consentono di partecipare attivamente alla politica del paese, tant'è vero che ci sono ad esempio in Ungheria rome sinti rappresentati a livello di Parlamento nazionale ma anche a livello europeo, tant'è vero che al Parlamento europeo con l'allargamento del 2004 sono state elette due eurodeputate di origine rom, mentre in Italia questo è ancora una vera e propria utopia a poter parlare di partecipazione attiva dei rome sinti. Oltre a questo quello che riteniamo che sia necessario è attuare delle politiche sociali che puntino alla mediazione, la mediazione di tipo culturale e che è una politica sociale che possano garantire una interazione sociale e non una politica che puntino all'esclusione e l'emarginazione delle minoranze rome sinti. Niente, concluderei qui. Aplaudito Aplaudito Grazie.